Battaglia di Salamina La Battaglia di Salamina fu una battaglia navale che si svolse il 23 settembre del 480 anno corrente, nel corso della Seconda Guerra Persiana, che vide contrapposti la Lega Panellenica, comandata da Temistocle de Uribiade, e l'Impero Achemenide, comandato invece da Cersei di Persia. La battaglia fu combattuta nel Golfo Saronico, a largo dell'isola di Salamina, e fu una vittoria decisiva per i Greci. La flotta persiana, numericamente superiore, fu sconfitta dai Greci, che sfruttarono al meglio le caratteristiche dello stretto braccio di mare in cui si svolse la battaglia. Antefatti La Seconda Guerra Persiana era iniziata nel 480 anno corrente, quando Cersei di Persia aveva invaso la Grecia. Dopo aver conquistato la Traccia e la Macedonia, Cersei aveva raggiunto il Peloponneso, dove si era scontrato con i Greci a Maratona. I Greci avevano vinto la battaglia, ma Cersei aveva deciso di continuare la sua invasione. Cersei aveva costruito una grande flotta navale, composta da oltre 1200 navi. La flotta greca, invece, era composta da circa 300 navi, la maggior parte delle quali ateniesi. La battaglia. Cersei aveva deciso di invadere il Peloponneso via mare, per evitare di dover attraversare il passo delle Termopili, dove i Greci avevano sconfitto l'esercito persiano nel 480 anno corrente. La flotta persiana si era diretta verso l'istmo di Corinto, dove i Greci avevano costruito un muro per bloccare l'avanzata dei Persiani. Tuttavia, Temistocle, il comandante ateniese, aveva escogitato un piano per attirare la flotta persiana in una battaglia navale. Temistocle inviò un messaggero a Cersei, dicendogli che i Greci erano intenzionati a ritirarsi nel Peloponneso. Cersei, credendo alla notizia, decise di inseguire la flotta greca. La flotta greca si ritirò nel Golfo Saronico, fino a raggiungere l'isola di Salamina. Cersei inseguì la flotta greca, e la battaglia ebbe inizio. La battaglia fu combattuta in uno stretto braccio di mare, che favorì i Greci. Le navi greche, infatti, erano più manovrabili delle navi persiane, e potevano sfruttare al meglio lo spazio ristretto. La battaglia fu lunga e sanguinosa, ma alla fine i Greci ottennero la vittoria. La flotta persiana fu sconfitta, e Cersei fu costretto a ritirarsi dalla Grecia. Conseguenze. La vittoria di Salamina fu una svolta decisiva nella Seconda Guerra Persiana. La sconfitta della flotta persiana impedì a Cersei di invadere il Peloponneso, e diede ai Greci la possibilità di continuare la guerra. La vittoria di Salamina fu anche un evento importante per la storia della Grecia. La battaglia fu un simbolo della vittoria della libertà sulla tirannia, e contribuì a rafforzare l'identità greca. Il valore strategico della battaglia. La battaglia di Salamina fu una battaglia strategicamente importante per diversi motivi. Innanzitutto, la vittoria dei Greci impedì a Cersei di invadere il Peloponneso, e diede ai Greci la possibilità di continuare la guerra. In secondo luogo, la battaglia di Salamina segnò la fine dell'egemonia navale persiana nel Mediterraneo orientale. La flotta persiana fu sconfitta, e i Greci divennero la potenza navale dominante nella regione. In terzo luogo, la battaglia di Salamina contribuì a rafforzare l'identità greca. La battaglia fu un simbolo della vittoria della libertà sulla tirannia, e contribuì a diffondere l'idea di una Grecia unita. La battaglia di Salamina è considerata una delle più importanti battaglie della storia, e il suo valore strategico è ancora oggi riconosciuto.